Buongiorno, oggi i giornali parlano diffusamente di quello che è successo ieri a Piazza Indipendenza, cioè una delle piazze centrali di Roma, in cui c'era un palazzo che conosco bene per il semplice motivo che a Matrix, un anno fa, nell'edizione dell'anno scorso con Francesco Fossa, raccontammo esattamente quello che succedeva in questo palazzo centrale di Roma, in cui c'era una sorta di terra di nessuno, nel senso che la terra era di qualcuno, cioè delle associazioni che avevano fatto sì che 400 profughi eritrei, questi dotati di permesso per esistere in Italia, quindi probabilmente regolari, probabilmente perché nessuno, né le nostre telecamere né probabilmente le forze di sicurezza, potevano entrare in questi appartamenti occupati abusivamente e illegalmente da 400 profughi eritrei e etiopici. Noi la raccontiamo questa storia, mi ricordo benissimo l'ingresso dove c'è un servizio d'ordine, dove non ti fanno salire, un condominio perfettamente regolare e con il semplice motivo che non era previsto dallo Stato italiano, non era stato tolto ai legittimi proprietari, insomma non c'era nessuna legge che prevedesse che questo condominio venisse utilizzato. Dopo quattro anni, dopo una serie di trattative, come scopriamo oggi dai giornali, viene sgomberato dalla polizia. In un paese normale, quando c'è una cosa illegale, si passano quattro anni, forse l'intervento della polizia non può sembrare cattiva accoglienza come oggi cita l'avvenire, forse cattiva accoglienza è come sono stati accolti per quattro anni in maniera inumana quelle persone in quel palazzo, come è stato maltrattato il diritto di proprietà di persone che avevano il diritto di avere quella proprietà, e quella proprietà voleva dire persone che avevano investito, voleva dire forse obbligazionisti, voleva dire banche per cui vi lamentate se prestano i soldi e poi non gli ritornano indietro, ma se poi quei loro palazzi vengono occupati. Sostanzialmente siamo dei fenomeni nel lamentarci di tante cose e poi dopo vi faccio l'esempio. Perché i giornali fino a ieri erano tutti contro gli abusivi, stupidi, allucinanti omicidi di Ischia? Perché avevano fatto un piano, avevano aperto una finestra nella loro casa di Ischia, ma invece sono tutti solidali nei confronti degli abusivi eritrei, che anche loro sono abusivi, sono altrettanto illegali, sono altrettanto controlegge. Gli abusivi di Ischia dopo il terremoto ci fanno schifo, mentre gli abusivi africani sono da parte dei giornali italiani coccolati. Dite che esagero? No, non dico che esagero, perché ho preso un giornale, non ho preso il giornale, non ho preso la verità, non ho preso Libero, che potete immaginare che posizione abbia avuto, ma ho preso, e non ho preso neanche Repubblica, ho preso il Corriere della Sera. Io vi leggo il Corriere della Sera di oggi nelle cronache, nelle cronache di pagine 2 e 3, e voi mi dite, l'unica cosa positiva, l'unica cosa positiva, dice nelle cronache della giornata, è il poliziotto che accarezza una donna africana. Poi c'è il titolo La gente buono, c'è questa foto su tutti i giornali della gente che accarezza la donna africana, che fa da coppia con il poliziotto che, ripreso a sua insaputa da una telecamera, avrebbe detto di spaccare le braccia a chi lancia degli oggetti contro la polizia. Poi se vai a vedere, la sintesi è sempre quella del fatto, è favolosa, perché quella del fatto com'è, la polizia sgombera un palazzo a Roma e spaccategli il braccio. In realtà funziona diversamente la frase, se tirano qualcosa, spaccategli il braccio. Non che la cosa sia legittima, ma ovviamente il contesto è un po' diverso. Se tirano qualcosa all'interno di una concitazione, non sto giustificando nessuno, è giusto che si indaghi con chi reagisce con violenza alla violenza, perché la polizia deve fare un passo indietro, anche se la tesi Brugnaro, cioè che uno corre e dice all'Akbar in mezzo a una piazza, magari con un coltello lì, spari. Non è che gli fai tanti salamelecchi. Ma comunque sia, lasciate perdere, l'atteggiamento delle croniche dei nostri del Corriere della Sera è l'atteggiamento che l'unica cosa buona è il poliziotto che accarezza la profuga. No, l'unica cosa buona è che dopo quattro anni, caro Corriere della Sera, che ci hai fatto due palle così sulla legalità, te e tutti gli altri giornalisti italiani che sparano di legalità, di legalità in un paese delle legalità, è che sia stata ripristinata la legalità nel centro di Roma. Quella è l'unica cosa buona. Quando il prefetto viene intervistato al Corriere della Sera, il prefetto, io faccio i complimenti al prefetto di Roma. Io non pensavo che questa donna fosse una donna così capace e così brava, questo prefetto di Roma, Paola Basilone, viva il prefetto di Roma, che dice, il giornalista Frignani, sapete, ma secondo lei a quale pezzo sono state riconsegnate le stanze ai privati? A quale prezzo? Ma io chiederei a quale prezzo questi privati hanno dovuto pagare per quattro anni perché in un paese normale, civile, gli fosse stata sottratta il diritto di proprietà per quattro anni? Non la domanda al prefetto a quale prezzo, con l'idea polemica, prefetto, ma a quale prezzo abbiamo risistito la legalità? Ma a quale prezzo? Al prezzo che è arrivato la Celere e ha sgomberato quello che doveva fare quattro anni fa, non impedire a dei poveracci di entrare in una casa che non era loro. Questo è il prezzo che abbiamo pagato, questa è la domanda che avrei fatto. E poi l'altra cosa straordinaria del prefetto di Roma, di Paola Basilone, mi complimento di nuovo col prefetto di Roma, che dice, io, gli dice, ma non potevate discutere? E il prefetto di Roma ha detto, abbiamo discusso, ma poi dice, con me, io non mi siedo con nessuno che non sia legittimato, cioè non mi siedo con quelli che pretendono di avere diritti senza la legalità. È ovvio che il prefetto non si può sedere con loro, non ci si siede con i terroristi, non ci si siede con i delinquenti, non ci si siede, sto parlando di campi diversi, è chiaro? E questo lo dice il prefetto, abbiamo un prefetto a Roma, finalmente. Abbiamo anche un capo della polizia, andiamo su Repubblica, e Gabriele sul capo della polizia che pare sia anche uno tosto, però insomma, voglio dire, mi sembra che abbia fatto l'abbonamento con Repubblica più che con la difesa dei diritti e della legalità in questo paese, perché insomma si preoccupa giustamente del poliziotto che avrebbe spaccato il braccio, che è una frase che non so se mai è stata eseguita e mai fatta, e si preoccupa meno il capo della polizia del fatto che la polizia ha fatto quello che doveva fare, e cioè ha sgomberato e ha ristrutturato una legalità che sembrava. A tutto ciò aggiungo che i giornali, alcuni lo notano, alcuni giornali, alcuni lo notano, che a questi poveracci che sono venuti in Italia gli sono state offerte delle alternative che non accettano, ragazzi, gli sono state offerte dei locali alternativi. Cioè, apriamo, non voglio fare il leghista, non voglio fare Salvini, e vi dico, poi dopo io voglio vedere qualche italiano che non ha la casa, quanto si può arrabbiare del fatto che lui non avendo occupato non ha alternativa. Ma comunque, a questi etiopi sono state offerte alternative che hanno rifiutato. Allora, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Come si fa anche a discutere di quello che è avvenuto ieri? Ieri è avvenuto quello che dovrebbe avvenire sempre. Il prefetto ha detto, mi sono stupito che a Roma ci sono ancora 27 palazzi occupati e a Milano ce n'è uno solo. Beh, ha ragione, ragione da vendere. Poi dopo vai a Bologna, dove il sindaco di Bologna, Mero, l'abbiamo detto la settimana scorsa, a quelli che occupano i palazzi, poi il giorno dopo che vengono sgomberati, non per merito suo, gli dà le officine da migliaia di metri quadri dove poter andare. Dice Bibiana, a zappare tutti, beh, forse se zappassero un po' di più invece di stare lì a fare i fenomeni nelle loro pippe mentali. Cioè, quando il giornalista dice a quale prezzo? Al prezzo di restituzione della legalità. A quale prezzo abbiamo messo un delinquente in galera in Italia? Al prezzo della sua libertà? Purtroppo sì, al prezzo della sua libertà, ma se quello ammazza, stupra o uccide, noi gli togliamo la libertà e fa parte del consenso civile. Se questi occupano e violano la proprietà privata, come minimo, non dico metterli in galera, non dico metterli in galera, ma almeno restituire la proprietà privata in un paese normale si fa. Questo è il prezzo normale, tranne che per i giornalisti, evidentemente, illuminati italiani. Altre due, tre cosette, poi vi lascio in pace. Beh, l'Atac è l'altra grande storia. Anche oggi, il Corriere della Sera, sull'Atac, così come il fatto un paio di giorni fa, adesso il problema dell'Atac, sapete qual è? Che il nuovo capo dell'Atac è direttore generale, presidente e amministratore delegato. Adesso io voglio dire, magari è bravo, magari non è bravo. So che Rota era bravissimo, l'ex direttore generale fatto fuori dalla Raggi. Quello che è certo è che l'Atac è in una tale situazione incasinata che io non andrei a vedere le questioni di Alleguleo, se puoi, secondo i nuovi codici, fare tutte e tre le... che purtroppo è piuttosto strano che consiglio il direttore generale siano la stessa persona. Detto questo, il problema dell'Atac non mi sembra tanto la nomina e i poteri all'interno di una persona mi sembra 1,3 miliardi di euro di debito, o no? Favoloso sempre il titolo, oggi mi sembra ancora del Corriere, non me la voglio prendere col Corriere perché poi è più un giornale che leggo, figuratevi un po' voi, però quando io mi leggo che in una corrispondenza del Corriere sul fatto che l'ingegnere è cacciato da Google per aver espresso i suoi pareri sugli uomini, sulle donne e soprattutto, perché questo i giornali italiani non lo dicono, sul fatto che la cultura dominante nella Silicon Valley è quella liberale che essere conservatori è considerato un problema, bene, questo signor D'Amore, ingegnere D'Amore che è stato cacciato perché ha espresso opinioni diverse dal Dipartimento Diversità di Google, si è rivolto a un avvocato, donna, indiano, repubblicano, per le minoranze che dice una cosa banale e ti dice anche forse i bianchi hanno qualche diritto in questo paese, dice l'avvocato indiano, immigrato, che ha preso d'amore come suo consulente. Il titolo del giornale è molto semplice, il sessista si rivolge all'avvocato, ormai è passato per il sessista, è stato condannato, è il timbro e il marchio per cui il sessista è stato condannato dall'opinione pubblica fighetta che comanda nell'informazione mondiale. Cantone scrive una lettera a Repubblica sull'abusivismo, io ho grande stima di Cantone, è molto presente, è un uomo che a parte forse il giornale ha lasciato interviste a chiunque e in questo caso non usa l'intervista ma usa la formula della lettera, la lettera diventa l'apertura di Repubblica, il titolo principale di Repubblica e la lettera al caro direttore di Cantone questa volta non è come magistrato, non è come presidente dell'ANAC ma è come abitante di San Giuliano, una città del sud devastata dall'abusivismo. Spiega i motivi per i quali è contro le proposte di oggi, è impossibile dice lui abbattere tutte le case abusive ma così come è impossibile ragionare sull'abuso, la tutela dell'abusivismo per interessi e poi fa una sua proposta che io non ho capito, non ci ho capito nulla nella proposta di Cantone. Caro Cantone se scrivi una lettera e se scrivi una posizione e se prendi la prima pagina di Repubblica facce capì quello che vuoi dire, faccelo capire, scrivi ABC, non sono tutti magistrati come te e come lei grandissimi esperti, faccelo capì, che vuol dire? Qual è la terza via di Cantone? Beh, leggetevi Repubblica se qualcuno di voi la conosca, la conosce e la capisce, mi mandi per favore una piccola mail e mi faccia capire che vuol dire Cantone. Ultima cosa, interessante questa roba di Belpietro sulla verità, il ministro Orlando ha scelto finalmente le persone che si occuperanno di limitare l'odio sul web, già io questa la trovo una cosa incredibile. Ma comunque sia, sapete chi sono secondo Orlando? Tutte le associazioni pro gay, pro islamici, catto comuniste, allora il fatto che ci siano delle associazioni islamiche va benissimo, il fatto che ci sono delle associazioni pro gay va benissimo, figuratevi un po' voi, è lgbtb, va tutto bene, però dice Belpietro siamo attenti perché io non ho visto neanche per esempio qualcuno che difenda la famiglia, cioè quello che voglio dire molto banalmente è che bisogna stare attenti tra gli odiatori, che sono una cosa che io conosco bene e di cui il web è insuppato e per la quale conviene veramente tirare avanti fino a che si può e poi dopo un po' menarli, tipo denunciarli, è l'altra, è quelli che esprimono opinioni che non sono condivise da tutti, si può esprimere l'opinione che la famiglia naturale sia l'unica famiglia che è importante in questo paese, potete condividerla o potete non condividerla, però la potete secondo me esprimere, potete dire che volete adottare un bambino anche se siete una coppia di donne, potete condividerla, potete non condividerla, però la potete esprimere. Ecco, l'idea che ci sia però qualcuno che sulla rete decida che cosa è modernamente giusto e si possa dire e cosa invece è antiquato e non si possa dire, secondo me è una cosa da orrore. Bene, comunque l'idea che ha preso Orlando è che già si capisce dalla verità e che certe cose si potranno sempre dire. Travaglio oggi si occupa della Raggi, dice che è totalmente inadeguata, che ha sbagliato, che è superficiale, eccetera, però è una specie di escusazio non petita per ringraziare l'esistenza di quello che qualcuno su YouTube me l'ha scritto, porro, prendono ancora il 30%, io per cui lo rispetto il Movimento 5 Stelle e ancora non rubano, per quello è il leitmotiv di voi che mi ascoltate, non rubano, diamogli tempo, verrebbe da dire se si fosse polemici, ma la cosa che voglio dire semplicemente è che il problema non è dargli tempo, è che facciano qualche cosa e che rubino o non rubino è ininfluente rispetto a quello che non stanno facendo fino a quest'ora. Ciao! 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 Ciao!